Ciao a tutti ragazze e ragazze e bentornati sul mio canale, io sono Giorret e oggi parliamo del grande fratello VIP, in particolar modo di Antonio Zecchiva e Sosia Vulta. Vediamo di che si tratta. Il grande fratello VIP è finito ormai da diverse settimane, ma i concorrenti continuano a stare al centro delle critiche anche fuori dalla casa. In particolare Sosia Vulta che è tornato a parlare di Antonio Zecchila, lasciandosi andare a una rivelazione inaspettata. Durante una diretta Instagram con Antonello Elia, Sosio non ha perso l'occasione per parlare di Antonio Zecchila, rivelando che ha saputo che gli ha chiesto scusa attraverso una pagina e ha detto che vuole partecipare a Pechino Express con lui. Vuole propormi di andare insieme da buoni napolitani, ha detto Sosio a Antonello Elia. Però prima mi deve chiedere scusa di persona, non tramite social, ha aggiunto poi dopo. Invece Antonello Elia replica, quello è il suo modo, chiede scusa pubblicamente e non privattamente. I due ex concorrenti poi hanno continuato a ricordare alcuni momenti passati con Antonio Zecchila e anche dei momenti in cui si sono divertiti, soprattutto quella della scivolata. Al tal proposito l'ex cavaliere di Uomini e Donne ha rivelato che guarda spesso quel filmato perché la caduta lo diverte tanto. E voi? Che cosa ne pensate di Antonio Zecchila e Sosia Ruta, possibili partecipanti di Pechino Express? Scrivete nei commenti di quale nome potrebbero avere nel programma. Per il momento ho concluso il video, se vi interessa iscrivetevi al mio canale per altre news. Un grosso abbraccio da Joe Rant.